Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 8 ottobre di Globus Television. Martedì, pressione stabile con venti di scirocco. Giornata contraddistinta dal bel tempo, cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 29 gradi sulla costa ionica, valori notturni in contenuto aumento mari. Mar Tirreno da poco mosso a mosso, Mar Ionio poco mosso, stretto di Sicilia da mosso a molto mosso.